Oggi noi stiamo denunciando per arrivare al maggior numero possibile di cittadini l'ennesimo scandalo che ha colpito i vecchi partiti, in particolare oggi il Partito Democratico come sempre più spesso accade con il sindaco del comune di Lodi, Ugetti e andremo ad analizzare non solo il singolo caso ma andremo ad analizzare quelle che sono le proposte del Movimento 5 Stelle contro invece quello che non ha fatto o ha fatto di malissimo questo governo. La prima cosa che mi viene da dire riferendomi al sindaco di Lodi è che il sindaco di Lodi potrebbe domani se dovesse passare il referendum confermativo sulla revisione della Costituzione del Presidente del Consiglio può tranquillamente, tecnicamente diventare un senatore, può tranquillamente diventare un senatore come il Vice Presidente regionale della Lombardia, quel Mantovani che oggi ha avuto il coraggio di presentarsi all'interno dell'Aula del Consiglio regionale della Lombardia, nonostante arrestato fino a ieri e liberato per un inghippo di natura più burocratica ma certamente non per la gravità dei reati che gli vengono contestati. Il sindaco Ugetti, io arrivo dal territorio molto vicino a quello di Lodi, so perfettamente chi è. Il sindaco Ugetti è il braccio destro del Vice Secretario del Partito Democratico, colui che ha per due mandati ricoperto l'incarico di sindaco della città di Lodi e due mandate all'interno dei quali il sindaco Ugetti svolgeva la funzione di assessore. Quando il sindaco Guerini ha dismesso la carica per essere eletto nel 2013 come parlamentare, chi è subentrato? Proprio il suo braccio destro Ugetti. C'è un'interno dell'Aula del Consiglio regionale.